Che cos'è lo stato dell'account in Instagram? Lo stato dell'account è questo strumento che fornisce Instagram per permettere ai creators e comunque alle varie persone di controllare la qualità del proprio account e se è in salute. Allora, quello che potete vedere ci sono una serie di voci. La prima sono i contenuti rimossi, ovvero quello che vi è stato cancellato da Instagram. Rimane arancione dalla prima rimozione e rimarrà così per un anno. Una volta che i contenuti sono stati rimossi e hanno confermato la rimozione non può essere sistemata questa cosa a meno che non passi un anno. Però il vostro account può rimanere comunque in salute. La seconda voce è il vero e proprio shadowbun. Questa è la voce più importante. Se voi siete in arancione qui non potete andare in esplora e nessuno vi può trovare se non i vostri followers. Va assolutamente sistemato perché questo è il primo grande avviso perché vi sta dicendo che il vostro account è a rischio non solo di andare in esplora ma potrebbe essere anche disabricato. Quindi se siete in questa condizione va assolutamente sistemato prima che sia tardi perché può bastare un altro post bannato per perdere il profilo. Il terzo è inerente al fatto dei contenuti mostrati più in basso nel feed. Questi contenuti sono quelli che l'intelligenza artificiale detecta come dannosi. Potete appellare contenuto per contenuto. Anche se tutti i contenuti sono sistemati, questo è quello che può succedere che rimane in arancione e questo è un bug. State tranquilli, se non c'è nessun contenuto mostrato più in basso può rimanere in arancione e non cambia nulla. Inoltre, monetizzazione e le funzioni che non puoi più usare la prima ovviamente è inerente alla qualità, insomma a quello che potete fare e come potete guadagnare. L'altra ha le funzioni, quindi non potete andare live, non potete utilizzare post in collaborazione. e vi dicendo, spesso e volentieri queste cose sono temporanei fino a che non vi ha dato troppo l'ineguida e possono diventare permanenti soprattutto per i post in collaborazione. Quindi ricordatevi, la cosa più importante è la seconda voce, la possibilità di andare in Esplora. Se avete bisogno, ci potete contattare in Telegram, in MLG Social Media.